Richieste di palazzi ridimensionate. Per la vicenda a calcio scommesse, la pena per Mauri, giocatore della Lazio, si riduce a sei mesi di squalifica, mentre il club laziale si salva con un'ammenda da 40.000 euro. E quanto disposto dalla disciplinare in relazione alle gare dei capitolini? Proscioglimento completo per il Genoa e i portieri rosati e benassi del Lecce. La sentenza della commissione disciplinare rispetta in pieno le attese. L'unica novità, semmai, è la gara per la quale è stato sanzionato Mauri. Non Lecce-Lazio come sembrava di intuire, ma Lazio-Genoa del 14 maggio. Palazzi in ogni caso è già pronto a presentare impugnazione per tutte le posizioni, compresa quella del centrocampista laziale. Sono contento per la mia Lazio che non dovrà patire con punti di penalizzazione, ma anche questa condanna per omessa denuncia a me sembra un'ingiustizia. Confido nei prossimi gradi di giudizio per lasciarmi alle spalle questa brutta avventura. Così commenta Mauri pronto a ritornare in campo il prima possibile.